ciao a tutti cari amici dello scorpione benvenuti nuovi e bentornati agli iscritti io sono ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi chakra creatività e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di voi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale quello che vedremo oggi sono le previsioni per la seconda parte di gennaio 2022 sono previsioni per quello che riguarda le tendenze energetiche dell'amore come sempre vi ricordo che sono letture collettive quindi prendete solo i messaggi che vi risuonano e lasciate andare il resto all'universo se poi volete avere un messaggio più completo vi consiglio di andare ascoltare il vostro ascendente o segno lunare bene mostrami scorpione tendenze energetiche per l'amore per la seconda parte di gennaio 2022 grazie il papa bene cari amici dello scorpione il papa qui potrebbe fare riferimento a quello che è un qualche tipo di percorso di tipo spirituale potrebbe far riferimento anche più semplicemente a quello che è un'espansione della vostra coscienza magari siete in un periodo dove state facendo delle valutazioni dove state studiando magari anche qualche cosa per qualcuno si intraprende quello che sono dei nuovi percorsi da un punto di vista spirituale il papa per molti versi fa anche riferimento a quelle che sono le ufficializzazioni quindi potrebbero essere dei matrimoni potrebbero essere delle convivenze andiamo a vedere nello specifico perché abbiamo il papa per voi il papa mi parla anche di società quindi per qualcuno magari potrebbe essere un periodo in cui appunto è così preponderante il tema comunque l'argomento della società bene andiamo a vedere amici delle scorpioni allora abbiamo un 8 di coppe un 2 di bastoni un 4 di pentacoli al contrario un 5 di pentacoli al contrario abbiamo un 10 di spade al contrario devo vedere che altro perché comunque iniziamo con quello che è un 8 di coppe quindi sento che per qualcuno ripeto potrebbe proprio essere quello che è un percorso di tipo spirituale lotto di coppe certe volte fa anche riferimento a quello che è il prendere le distanze da qualcuno da qualcosa o proprio più nello specifico quello che è un viaggio di tipo fisico il 2 di bastoni mi parla di quello che è il vostro pensare al futuro mi parla di quello che è diciamo potrebbero essere i vostri progetti le vostre idee c'è la volontà se vogliamo di andare avanti probabilmente qui c'è stato l'allontanamento da un qualche tipo di situazione e c'è la volontà come dicevo di andare avanti di costruire un qualche cosa di nuovo insomma il 4 di pentacoli al contrario denota il fatto che ci si sta proprio staccando da qualche cosa e potrebbe avere qualche riferimento con questo 8 di coppe il 5 di pentacoli al contrario mi dice che per qualcuno potrebbe diciamo così essere importante quello che si lascia indietro potrebbe anche essere vissuto come una forte perdita no adesso io non lo so se è una situazione se è una cosa se qualcuno dopo lo andiamo a vedere nello specifico però ecco questo 5 il 5 di pentacoli normalmente fa riferimento a quelle che sono delle perdite di tipo monetario ok anche se qui non sento tanto che ci sia quel cioè può essere perché comunque abbiamo anche un 4 di pentacoli quindi è sempre un qualche cosa di immateriale quello di cui si parla però ecco è un po come se non come vi dico vi foste proprio staccati da questa sorta di materialità se vogliamo e forse anche per quello che c'è il papa perché si vede si iniziano a vedere le cose da un punto di vista più spirituale se ci fosse stato un imperatore per esempio allora questo avrebbe avuto più peso io sento invece essendoci il papa è come se si facesse quello che è un salto nel non attaccamento alle cose materiale materiali abbiamo un 10 di bastoni al contrario qui sento che si fa fatica non tanto a lasciare indietro quello che la questione materiale ma quello che è una questione di responsabilità di pesi per qualcuno fa anche scusate fa anche riferimento alle aspettative che gli altri hanno per voi è un 10 quindi ci dice che c'è la chiusura di un ciclo e l'inizio di un ciclo nuovo abbiamo poi un altro 5 questa volta di spade quindi probabilmente questo questo lasciarsi indietro comunque questo processo di elevazione crea comunque un qualche tipo di di confusione mentale abbiamo poi il 10 di pentacoli al contrario e il 3 di bastoni al contrario qua avevate il duo ok quindi quello che sento è che di nuovo c'è un qualche tipo di legame inerente magari alla famiglia con questo 10 di pentacoli al contrario qualche tipo di e sempre anche qui fa riferimento essendo il pentacolo a quello che potrebbe essere una io sento una casa una proprietà comunque no probabilmente quel è questa cosa quello che vi state lasciando indietro se non è una casa potrebbe essere semplicemente la propria stabilità materiale ok e poi comunque terminiamo con un 3 di bastoni tra i bastoni mi parla di un progetto di un qualche cosa che in realtà è già iniziato mi parlano di un qualche cosa che sta già prendendo forma se il 2 di bastoni poteva essere quello che era l'idea il progetto il 3 è già la realizzazione quindi andiamo comunque verso quello che è un una concretizzazione ok andiamo a vedere nello specifico di che cosa si trattano queste di che cosa si parlano queste carte allora andiamo a vedere spiegatemi lotto di coppe per piacere grazie ok fante di spade e asso di spade dunque qui sento che probabilmente per qualcuno è il caso di allontanarsi da questo tipo di energia di fante è un'energia comunque di tipo immaturo e per qualcuno potrebbe fare riferimento una persona che ha diciamo qualche tipo di tendenza a controllare un pochettino troppo l'asso di spade fa riferimento proprio o a un tipo di conversazione di comunicazione che è avvenuta o comunque a una sorta di chiarezza mentale una sorta di taglio se vogliamo di quello che non serve più ed è probabilmente la cosa la questione la situazione dal quale lotto di coppe vi fa allontanare per qualcuno questo fante di spade potrebbe rappresentare la vostra persona di interesse o potrebbe rappresentare un figlio comunque in ogni caso l'energia che esprime è un energia un po così un po un po distratta un po per certi versi è come se fosse molto preso da sé per altri invece potrebbe essere che una persona abbastanza sicure che quindi tende a controllare l'altro magari poi siete voi però con la scusa che c'è lotto di coppe sento che voi avete bisogno di allontanarvi da questo tipo di energia andiamo a vedere il 2 di bastoni per piacere grazie abbiamo un altro 3 di bastoni ce l'avevate anche qui quindi 3 di bastoni vediamo che altro e 2 di bastoni wow 2 2 3 e 3 quindi sì quello che sento è che c'è proprio la voglia di costruire qualcosa la voglia di dedicarsi a un qualche tipo di prospettivo futuro per qualcuno sento che c'è bisogno di dedicarsi a sé c'è bisogno di dedicarsi al proprio futuro alle aspettative a quello che si vuole ok e di nuovo qui è come se me lo me lo rimarcasse ok perché anche qui abbiamo questo 3 di bastoni e poi questo 2 di bastoni che messi in questo senso potrebbero anche rappresentare il fatto che magari si era già iniziato a fare un qualche tipo di progetto che poi in realtà divento cioè come se la cosa fosse un po retrocessa diciamo no andiamo a vedere il 4 di pentacoli al contrario perché c'è ragazze allora abbiamo un 4 di spada al contrario un 2 di pentacoli la luna e l'imperatrice wow 44 ok e sì allora probabilmente questa vostra necessità di staccarvi da un qualche cosa o da qualcuno da qualche tipo di istituzione deriva dal fatto che sento che per qualcuno si arriva un po da un momento stagnante da una situazione un attimino dove l'energia forse non era tanto fluido non era tanto bella c'era una sorta di instabilità e potrebbe anche essere dovuto al fatto che ci sia stato un qualche cosa come dicevo anche prima con l'asso di spade potrebbe anche essere che c'è un qualche cosa che sta venendo fuori magari legato al passato o magari sento per qualcuno che è tanto inerente quello che è la propria femminilità il proprio lato ricettivo il proprio lato materno quindi si tratta proprio di quello che è il proprio essere donna io sento donna o comunque se sei un uomo che ascolti il lato femminile all'interno di te è proprio perché c'è l'imperatrice che mi parla comunque di quello che è la creazione di quello che l'abbondanza quindi sento che per qualcuno ci si sta un attimino staccando probabilmente da quelle che potevano essere delle aspettative la luna ripeto parla di quelle che sono le situazioni del passato che ritornano a galla ma parla anche di quelle che sono le nostre proiezioni ok va bene andiamo a vedere perché abbiamo questo 5 di pentacoli al contrario vediamo di che cosa mi parla questa carta abbiamo un re di bastoni nel contrario re di bastoni al contrario il mago è un altro fante questa volta di bastoni sì qui sento che come vi dicevo c'è questa sorta di delusione potrebbe essere dovuto a questore di bastoni potrebbe essere la persona di vostro interesse o più semplicemente esprimere quello che è un energia dove voi non vi sentite sicuri non vi sentite stabili non vi sentite ricordiamo che anche qui avevate il 2 di pentacoli che indica comunque quello che è una sorta di instabilità una sorta di alti e bassi ok poi abbiamo il mago il mago mi parla di quello che è per certi versi la capacità di manifestare la capacità di plasmare quello che è la la realtà insomma a proprio favore e poi abbiamo questo fante di bastoni che mi parla comunque sempre o di un energia di un figlio o comunque di un energia diciamo di tipo acerbo questo tipo di persona la tendenza a parlare tanto diciamo a concludere poco quindi potrebbe essere che ripeto di nuovo per quello che riguarda le proiezioni e le aspettative che si avevano questo tipo di persona non si è rivelato così solido se vogliamo così stabile come magari ci aveva fatto credere ecco se non avesse nessuno queste carte mi fanno venire in ovviamente che è un po come se sento che qualcuno sta cercando di manifestare quello che l'anima gemella però lo fa da un punto di vista non non obiettivo ok perché sento che questa questo tipo di manifestazione non è non è in equilibrio con voi non c'è quello che è una vostra sicurezza di base per poter manifestare la persona giusta per voi nel senso che se siete in un momento di vibrazione basse e cercate di manifestare qualcuno vi arriverà qualcuno che ha le vostre stesse vibrazioni basse quindi cercate prima di fare un lavoro su voi stessi e poi vedrete che la persona giusta arriva allora il dieci di bastoni è spiegato dal mondo e da un dieci di spade avete tre dieci in questa stesa quindi quello che sento che c'è qualche cosa che sta per cambiare o che cambierà comunque il mondo potrebbe di nuovo parlare di un viaggio vi ricordo che anche qui avevate una carta di viaggio di spostamenti quindi per qualcuno si potrà trattare magari di quello che è un andare a convivere piuttosto che un non spostarsi magari separarsi dipende un attimino qual è la situazione di ognuno di voi comunque c'è quello che è è una sorta di tradimento una forte sofferenza che comunque con i dieci di bastoni è imperativo lasciarsi indietro ok non rimanete attaccati troppo a quello che è il passato perché crea ansia scusate crea depressione mentre stare attaccati essere attaccati troppo al futuro pensare troppo in avanti crea ansia quello che sarebbe giusto vivere nel qui ora cosa provo adesso come mi sento oggi e cose di questo del passato ormai è andato non si può fare niente allora andiamo a vedere questo 5 di spade andiamo a vedere la confusione ok allora abbiamo un 8 di bastoni al contrario un 4 di coppe e un cavaliere di bastoni io sento che qui c'è qualcuno che magari non si sente tanto coinvolto non si sente tanto considerato e quindi è come se venisse a mancare un qualche tipo di comunicazione un qualche tipo di dialogo un qualche tipo di notizia vi ricordo che qua avevate la luna che parlava di quello che veniva a galla qui anche l'asso di bastoni scusate di spade quindi può essere che ci sia un qualche tipo di comunicazione che non si sta dando o che comunque non sia chiara diciamo no e quello che sento è appunto c'è qualcuno che non ha le cose ben chiare è come se questo cavaliere di bastoni arrivasse di tanto in tanto non fosse sempre lì diciamo nel nel momento accoglienza ma certe volte c'è certe volte non c'è sento che è un'energia che non dà tutta questa stabilità ecco andiamo avanti andiamo a vedere 10 di grazie abbiamo un di un altro 10 un 10 di denari al contrario che è la stessa identica energia scusate è una regina di denari quindi sì qui potrebbe proprio esserci qualche tipo di riferimento legato alla casa legato alla famiglia legato a quello che unione e potrebbe anche essere che questa figura di tipo femminile potrebbe essere una figura che magari interferisce perché io comunque qual 10 che quello che comanda queste sono carte di spiegazione però ce l'ho girato al contrario quindi in realtà è un ciclo che non si chiude ok anche questo è girato al contrario per cui potrebbe essere come dicevo un qualche tipo di figura che influenza questo tipo di situazione o di relazione o potrebbe essere potrebbe anche essere la vostra energia però sento più che una persona come dire che influenza magari all'interno della famiglia all'interno di un gruppo di amici e che fa sì che diciamo che questo ciclo in c'è per certi versi che non si concluda ok andiamo avanti a vedere questo tra di bastoni perché li per piacere grazie due carte per piacere grazie 8 di coppia un'altra volta e 7 di 8 di coppe l'appeso e 7 di bastoni sì allora vi ricordo che anche qui erano usciti 2 3 2 3 e qua avete il 2 e qua avete il 3 di bastoni qui di nuovo 8 di coppe e 8 di coppe c'è proprio il bisogno qui avevate un'energia di 4 di spada e qui avete l'energia dell'appeso quindi c'è proprio bisogno di prendersi un tempo di fare il punto della situazione io direi proprio di allontanarsi da questo tipo di energie o anche da questo tipo di energie cioè prendetevi un tempo per voi stessi fate quello che è il viaggio di tipo spirituale di cui mi parlano il papa e l'otto di coppe cercate davvero con questo appeso di guardare le cose da un altro punto di vista ma non fatemi influenzare troppo da quello che sono i giudizi i pareri diciamo i consigli esterni ok visto che anche qui abbiamo questo tipo di influenza femminile cercate di ragionare vi verrebbe da dire con la vostra testa ok andiamo a vedere il cosciente l'incosciente con i tarocchi di osha cioè quello che vedete quello che non vedete io intanto vi ricordo che se volete supportare il canale potete mettere un like al video se comunque la stesa vi è piaciuta fino qui se vi ha aiutato potete iscrivervi se non l'avete ancora fatto e potete condividere se poi volete prenotare delle consulenze personali con me potete scrivermi un'email e trovate l'indrizzo sotto la descrizione di ogni video e nelle info del canale bene due carte per gli amici dello scorpione grazie compromesso e anche qui sento che è come se ci fosse questa esigenza o questa necessità anche se vogliamo e il silenzio questa necessità di di arrivare a quello che è un compromesso ripeto qui potrebbero anche esserci degli interessi di tipo monetario io lo vedevo dov'è che lo vedevo qua con la casa l'ho visto qui quindi potrebbe l'ho visto qui quindi potrebbe essere che qualcuno debba scendere a compromessi o comunque si sente nell'esigenza di fare quelli che sono dei compromessi per riuscire ad andare avanti in questa situazione o in questa relazione quello che non si vede è che questa carta corrisponde all'arcana maggiore della stella mi parlano di destino quindi io sento che qualcuno è diciamo obbligato a passare di qui che è in un certo senso scritto nel destino non avete carte né di anime gemelle né di fiamme gemelle però quello che si sente che probabilmente è un per una tappa obbligata diciamo del vostro percorso di vita per riuscire qui avevate anche la luna la stella e la luna mi parlano di quello che sono i desideri i sogni ok come se qualcuno qui dovesse riuscire avesse bisogno di concludere di portare a compimento quello che un sogno quello che è un progetto ok come dice anche il 3 di bastoni però c'è bisogno di ascoltarsi c'è bisogno di lasciarsi indietro del terminate energie c'è bisogno di non farsi influenzare da quelli che sono i giudizi i pettegolezzi la società l'ambiente circostante ok c'è proprio questa necessità di fare un po il punto della se avevate ancora appeso da qualche parte eccolo qua quindi c'è proprio questa necessità di fare un lavoro su di voi in introspezione ricordiamo che abbiamo due volte lotto di coppe appunto per cercare di capire o di vedere anche le cose da un altro punto di vista voglio ancora vedere un ultimo messaggio in chiusura da parte degli angeli del cuore vediamo che cosa hanno da dirvi vediamo se c'è qualche altro messaggio da aggiungere una carta per gli amici dello scorpione per piacere grazie grazie meriti amore sei degno di essere amato ecco quello che sento è proprio questa storia lo sento questa carta la sento molto legata a quello che il compromesso ok io penso che ci sia qualcuno qui che non si dà il giusto il giusto valore e che quindi pensi di dover scendere a compromessi per ottenere quello che è l'amore però questa carta vi dice no meriti amore sei degno di essere amato per il semplice fatto di esistere di essere nato di respirare di essere un anima insomma bene cari amici dello scorpione io spero che in qualche modo la lettura vi sia stata utile vi ringrazio tanto per il tempo che avete trascorso qui con me vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video ciao ciao